I Vigili del Fuoco sono intervenuti attorno a l'una di notte in via Sant'Ambrogio a Trebaseleghe per un'auto rovesciata. Il conducente è rimasto ferito. I pompieri, accorsi con i volontari di Santa Giustina e con la squadra di Cittadelle e l'autocru di Padova, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente, riuscito a venire fuori da solo dall'automobile, veniva assistito dal personale sanitario del Suem 118, che l'ha poi trasferito in ospedale. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi del Sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminati attorno alle 3 e mezza.